Raga siamo in macchina ed è stata letteralmente una delle cose più fighe che io abbia fatto nella mia vita La zia può confermarlo Sì cazzo E oltre tutto Se siete iscritti alla nostra associazione iCurse Avete uno sconto fantastico sul lancio in parapendio In tandem ovviamente Con loro quindi vi lascio qui in descrizione tutti i dettagli Oggi la zia mi ha portato a Lessolo in Val Chiusella Siamo in zona canavese E faremo parapendio 3, 2, 1 comincia a camminare in avanti Vai 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 guarda avanti guarda avanti guarda avanti Vai 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 e ora corri corri In tandem Mentre aspettiamo l'omino che ci porterà Non si guardare Mentre aspettiamo l'omino che ci porterà Col furgone nel punto di partenza Per il lancio in tandem Vi dico velocemente come ci si abbiglia Per un lancio di questo tipo Noi siamo in inverno E' gennaio E' una giornata soleggiata Un inverno anomalo questo Quindi mi bastano un pantalone Scarpe La giacca antivento Con sottotermica e felpa Se fossimo in estate Probabilmente basterebbe Dell'abbigliamento più leggero Forse sempre consigliato Comunque una giacchetta antivento La zia mi sta vestendo Vediamo un po' esatto La zia mi sta preparando per il volo Così Deve essere una cosa fatta in sicurezza Guarda che E' uno sport impegnativo questo Poi c'è questo che va Sono pronta? E' tutto un po' stortivo Non morirò Probabilmente sopravvivrò Ci stanno comunicando Che c'è un po' di vento Troppo forte per poter partire Soprattutto perché arriva da nord Quindi stanno facendo Un po' di gonfiaggi Li chiamano Quindi stanno testando Un pochino il tutto E vediamo se riusciamo A fare il mangio di oggi Corri, 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 corri Corri, 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 corri In occhio al vento Stiere indietro Let's go! Uh-huh! Allora, Aike! Aike! Dove li portiamo? Allora, ci stiamo già aspettando E Sakhi! Can direzioni Tu sono io No! Ti stai tutto 3, 2, 1 e... ok piedi, 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 piedi... vai, vai ancora, 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 ancora ancora, ancora, ancora. ok High track! Woo